Il ritorno dello Jedi conclude la trilogia originale di Star Wars. La trama vincente, arricchita da numerosi colpi di scena, è pienissima di azione avvincente e ricca di drammatiche svolte, che caratterizzano questo capolavoro, mentre il maestro Yoda rivela segreti scioccanti, che rendono ancora più splendida questa epica saga spaziale.